I mondi online rappresentano una nuova opportunità importante di sperimentazione e di aggregazione sociale che quando diventano sufficientemente complesse possono offrire importanti lezioni alle società del mondo fisico. Così come spesso i blog ed altri strumenti tecnologici importanti vengono demonizzati da parte di persone che sono totalmente ignoranti del loro funzionamento e che non sono abbastanza scrupolose per chiedere consiglio a coloro che li conoscono. Anche i mondi online vengono visti come una fonte esclusivamente di pericolo da parte di coloro che non hanno la diligenza e non hanno la curiosità di approfondirne il significato. I mondi online sono quindi un esempio importante di come un governo democratico avanzato può abbracciare strumenti tecnologici per sperimentare un importante avanzamento innovativo e l'eventuale adozione di strumenti nuovi per governare e per ascoltare, per interfacciarsi con la gente. Come si comporterà il futuro Presidente del Consiglio italiano relativamente a questo e ad altri strumenti tecnologici di importante innovazione? L'adozione di questi strumenti non comporta grandi spese. La loro analisi e la loro diffusione, invece che la loro demonizzazione, possono dare un'importante spinta a riaffermare l'innovazione sulla scena nazionale italiana.